Nel 2012 mi trovavo a San Francisco a gestire alcuni programmi per start-up italiane. E mentre stavo camminando in alcuni dei campus di aziende tecnologiche Montenvio e Palo Alto, guardando questi splendidi edifici, mi sono resa conto di quanto fosse incredibilmente funzionale e progressista il modello economico americano. Il segreto della mecca dell'innovazione si basava su quattro elementi fondamentali. Università e istituti di ricerca prestigiosi. Focus forte su tecnologia e innovazione. La condivisione di idee, il cui valore si accresce grazie al confronto e importanti investimenti in quelle ritenute più promettenti. Un modello che fa dell'innovazione il motore del proprio sistema economico e che a fine ciclo deve restituire ai propri investitori il capitato di investito più gli interessi per poter funzionare. Un modello che si fonda sulla capacità delle grandi imprese tecnologiche e digitali di essere competitive e di generare grandi profitti. Dopo l'esperienza americana mi sono recata a Londra, la città europea che investe di più in aziende digitali e tecnologiche, con 3,2 miliardi di euro investiti negli ultimi due trimestri. Ma anche una città che è all'avanguardia per quanto riguarda i diritti e l'inclusione sociale. Nell'ambito delle mie ricerche mi sono trovata molto spesso a leggere di alcuni dati e di alcune ricerche che mostravano quanto effettivamente la tecnologia stesse avendo degli effetti negativi sulle persone e la società. Sapete, l'Europa ha sviluppato molti progetti che si sono ispirati proprio al modello americano, cercando di replicare alcune dinamiche della Silicon Valley nel nostro continente, seppur tenendo conto delle diversità, dell'ecosistema imprenditoriale e dei minori investimenti. E io sono sempre stata molto entusiasta nel lavorare questi progetti che mi hanno vista coinvolta, perché credevo proprio nella forza di questi interventi di poter avere un contributo sulla produttività e la prosperità di questi paesi. Quando stavo lavorando a Londra però ho iniziato a leggere di casi come ricerche, come quella che è stata condotta dall'Università di Pennsylvania a Philadelphia, che indagava il nesso tra la depressione e i social network, e che ha confermato che c'è effettivamente un collegamento causale tra il minor utilizzo di social network e il minor senso di solitudine e di manifestazione di depressione in età giovanile. Un altro esempio è quello della sharing economy, che con i suoi effetti ha aumentato il costo di alcune centricità, perché essendoci più alloggi disponibili ha attratto folle incontrollate di turisti nei centri città, creando una distorsione sul mercato immobiliare e aumentando il costo della vita degli abitanti. E infine, ma non meno importante, le conseguenze sulla privacy, la perdita di controllo dei nostri dati personali, causate da modelli economici e modelli di business che hanno favorito molto le grandi imprese di internet, lasciandole agire in quasi totale libertà e tutelando molto poco gli individui. Ecco, ho ripensato alla Silicon Valley e ho pensato a quanto mi ero persa per strada. Ho pensato al numero spropositato di senza tetto che vivono su Market Street o altre strade del centro. Ho anche pensato ai prezzi delle case a San Francisco, che hanno raggiunto livelli molto elevati, essendo tra i più costosi del mondo, e costringendo alle persone che non lavorano nell'industria tecnologica a spostarsi, ad abbandonare la propria città e andare a vivere nei paesi limitrofi. Oppure ai cuscinetti sociali che praticamente non sono mai esistiti in California. E allora perché dobbiamo credere così tanto nella tecnologia e nell'innovazione? Mi sono fatta questa domanda, ho ripensato la mia missione come individuo. E ho capito che per comprendere questo fenomeno avevo bisogno di lenti molto più grandi. Non mi bastava affidarmi al modello della Silicon Valley. E allora ho provato a pensare ciò che mi ha portato ad essere così entusiasta verso la tecnologia. E ho pensato ai tablet che vengono utilizzati in alcuni paesi dell'Africa o dell'America Latina, per dare la possibilità ai bambini che vivono in aree periferiche, dove non ci sono scuole, di apprendere alcune nozioni fondamentali come il calcolo numerico, divertendosi grazie a tecniche di gamification. Oppure ho pensato al progresso della medicina e alla potenzialità che ha l'intelligenza artificiale di creare delle cure sempre più personalizzate, che ci permetteranno di guarire da malattie oggi inguaribili o di guarire più velocemente. La tecnologia ANEF ha un potenziale di creare tanto benessere per la società e le persone. Però quello che ho capito è che c'era bisogno di ripensare al modo di fare impresa e tecnologia, che c'è bisogno di familiarizzare con il concetto di impatto sociale e di internalizzarlo nel nostro modo di operare. E allora se pensiamo all'impatto, e cioè all'effetto che l'implementazione di un'idea ha sul benessere della comunità, allora ci sono cinque elementi che dobbiamo tenere in considerazione. La prima è che, e l'ho imparata in Italia, è che non possiamo sempre parlare di scalabilità, e cioè di modelli di business che ci permettono di replicare la nostra attività e il conseguente giro di affari in maniera esponenziale. A volte questo è possibile, ma ci sono altri casi dove dobbiamo tener conto delle peculiarità dei territori, dei bisogni locali, e dobbiamo tener conto quindi delle esigenze delle comunità in città, in province, in regioni. Un'idea non deve essere per forza esportata in tutto il mondo per fare la differenza. Per esempio, se parliamo di problematiche sociali, ci possono essere soluzioni ad hoc che si vengono sviluppate proprio perché ci sono delle esigenze particolari in un territorio e delle esigenze particolari di quelle comunità che vivono in un territorio. A volte queste soluzioni possono essere replicate, adattandogli a contesti diversi, ma ciò che è importante è tenere in considerazione e tenere aperta una finestra al dialogo tra città, tra territori, che cercano di risolvere problematiche simili in modalità differenti, la possibilità di ispirarsi a casi virtuosi. E questo è possibile creando reti tra città che hanno dimensioni simili e problematiche simili, perché questo crea spazio per l'innovazione e la sperimentazione di soluzioni simili o diverse in differenti contesti. Il secondo punto è la sperimentazione, e cioè la possibilità di testare un'innovazione o una tecnologia non soltanto dal punto di vista, non soltanto misurando nella propria usabilità e performance, ma anche da un punto di vista sociale. E quindi, se vogliamo introdurre una tecnologia, penso alla personalizzazione dell'insegnamento a scuola e quindi la possibilità di dare agli studenti dei compiti personalizzati grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale che tengono conto delle lacune e dei punti di forza degli studenti, allora dobbiamo anche tener conto dell'impatto che questa tecnologia o questa modalità ha sull'apprendimento, sull'inclusione sociale degli studenti, sulle loro competenze. Questa dovrebbe essere la prassi, altrimenti rischiamo di incidere negativamente sul percorso educativo e non solo delle generazioni future. Il terzo punto è la regolamentazione. Non so se avete sentito parlare di regolamentazione anticipatoria, ma per limitare gli effetti negativi di alcune tecnologie, dell'introduzione di alcune tecnologie nel mercato, come ad esempio le automobili con guida autonoma, si possono creare degli spazi senza vincoli di regolamentazione dove si osserva l'interazione tra queste tecnologie e con le persone e l'ambiente esterno. Questo permette al regolamentatore di intervenire in modo proattivo e di regolamentare la tecnologia in modo tale che non vada a incidere negativamente sulla società. Quando non è possibile avere una regolamentazione anticipatoria, perlomeno la regolamentazione dovrebbe essere tempestiva e intelligente. Cioè non soffocare la tecnologia, ma limitarne gli effetti distorsivi. Un esempio è la GDPR che è stata introdotta per tutelare i dati digitali degli utenti, degli individui, oppure una legge che è stata varata recentemente negli Stati Uniti per regolamentare alcuni lavoratori della gig economy, come gli autisti di Uber o di Lyft, classificandoli come dipendenti e quindi dandogli l'opportunità di avere tutta una serie di coperture sociali a cui altrimenti non avrebbero avuto accesso. Il quarto punto. Quando parliamo di impatto sociale non significa essere meno ambiziosi, anzi, significa pensare che la nostra idea possa effettivamente contribuire a risolvere alcune sfide mondiali, come la fame nel mondo, come l'educazione di qualità, sfide come i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ecco, allora se vogliamo risolvere queste sfide complesse, non ci possiamo affidare esclusivamente alle macchine, alla possibilità delle macchine di elaborare quantità importanti di dati e di darci delle informazioni. E non ci possiamo neanche affidare soltanto a una visione lungimirante, una soluzione lungimirante di un innovatore o di un governo. Dobbiamo attingere a quella che si chiama intelligenza collettiva, definita da Jeff Mulgan come un'intelligenza di vasta scala, formata di collettivi, e cioè di gruppi di persone che decidono di stare, pensare e agire insieme. Allora, se pensiamo all'intelligenza collettiva, possiamo risolvere problemi guardandoli da punti di vista e prospettive diverse, perché portiamo a tavolo comune designer con ricercatori, policymaker con scienziati, architetti con filosofi, perché teniamo conto della competenza, delle diverse expertise, dei diversi ruoli e responsabilità di tutti questi soggetti, che insieme possono risolvere soluzioni in modalità diverse, ma seguendo una visione comune. E allora, se penso alla grande sfida del cambiamento climatico che vediamo oggi, non posso non pensare che servirà la collaborazione tra attori con competenze, ruoli e responsabilità diverse per poter affrontare questo problema. Il quinto e ultimo punto è che quando ideiamo, dobbiamo ideare con i destinatari finali al centro, cioè includerli nel design e nell'implementazione e nella prototipazione di una soluzione, per evitare di creare dei danni negativi su questi soggetti. E allora, soprattutto quando parliamo di tecnologie complesse, come l'intelligenza artificiale, che avrà e ha un impatto forte sulle persone, sulla società e sul loro comportamento, allora dobbiamo tenere in considerazione questi individui e attingere a quella che dicevo prima, all'intelligenza collettiva. Quindi per riassumere, scalabilità verso unicità, sperimentazione tenendo conto dell'impatto sociale, regolamentazione, tempestiva e intelligente, intelligenza collettiva, per risolvere problemi di scala mondiale, e infine ideare con i destinatari al centro. Ecco, questo è quello che dovremmo pensare quando pensiamo a un'idea, anche da un punto di vista dell'impatto sociale. Allora, io credo di essere di fronte a un'audience molto sensibile a questi temi e perciò vi invito a riflettere insieme a me e di pensare all'ultima volta che avete condiviso un'idea con un amico, con un familiare, con un collega. Avete pensato all'impatto sociale di questa idea? Avete pensato agli effetti negativi che potrebbe avere? E come, con chi parlarne per cercare di limitarli? Allora, io vorrei che riflettessimo tutti su questi temi e che vi facesse portatore insieme a me di questo messaggio. Perché soltanto così potremmo costruire un mondo migliore per noi, ma soprattutto per le generazioni future, che avranno problemi ben più grandi dei nostri e soltanto così potremo sfruttare al massimo i benefici della tecnologia rimanendo degli intramontabili sostenitori dell'innovazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.